Direi che oggi siamo entrati con la giusta determinazione sin dall'inizio e dal primo tempo abbiamo praticamente chiuso la partita con un parziale di 6 a 0. Poi c'è stata una leggera flessione nel secondo, nel terzo abbiamo ripreso. Alla fine ricordiamoci che Lavagna era secondo fino a due giornate fa, quindi è una squadra di tutto rispetto. Io sono convinto che siamo sulla strada giusta. Se continuiamo con questa determinazione, questa mentalità, arriveremo al primo posto. Oggi mi è piaciuto molto l'approccio alla gara, che magari con la partita con l'Andrea Doria qua non c'era stato un approccio così. C'è stato un approccio bello, determinato, siamo andati subito in contropiede, in vantaggio. Penso che finire il primo tempo 6 a 0 contro una squadra come la loro non sia facile. Mi è piaciuto meno, in certe situazioni ci siamo un po' rilassati, però forse questo fa parte un po' del gioco. Quello di cui abbiamo parlato questa settimana va da ripetuto, cioè un grande impegno negli allenamenti e sicuramente una grande concentrazione, perché io reputo comunque la Triestina la squadra più forte dopo di noi. Quindi sarà sicuramente una partita difficile, sarà una partita combattuta e quindi dobbiamo essere assolutamente concentrati. Grazie. 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 Grazie.